Passiamo ai segni di terra e iniziamo col segno del toro. L'inizio dell'anno non è dei migliori. Un po' di confusione, attimi di smarrimento. Utilizza questo periodo per mettere a fuoco i tuoi progetti e capire le tue ambizioni. Avrai un 2020 scoppiettante, pieno di grandi promesse. Il segno della Vergine. Gennaio e il 2020 sono i due periodi che vi vedranno protagonisti, forieri di grandi realizzazioni. L'unico neo, qualche problema, qualche discussione con il partner. Attenzione a non esagerare nelle incomprensioni. Calma. Capricorno, inizia con gennaio un nuovo ciclo di vita che ti proietterà nel tuo futuro. I primi frutti cominceranno a farsi vedere. Progetti per la casa, occasioni lavorative. È iniziato il tuo 2020, un anno pieno di promesse.